A coltello al figlio ma in scena un incidente domestico arrestato a Marotta un uomo di 54 anni ferito non grave il giovane 24 anni perde il controllo dell'auto e si incastra tra un camion e un guardrail tragedia sfiorata sulla strada provinciale cesanense a Fenile di Fano invece un'auto sfonda il guardrail e finisce nel fossato l'incidente era 14 scende per soccorrere due donne ma viene investito da un'ambulanza 59enne trasportato al torrette di Ancona non è vero che le marche passeranno in zona gialla la notizia sul cambio di colore smentita dal governatore e dall'assessore regionale alla sanità sulla base dei parametri attuali dalla proroga dello stato di emergenza la validità ridotta del green pass anche con i tamponi ma il lascia passare legittimo la parola all'esperto su Fano tv l'avvocato di Verona Thomas del Monte domenica si alza il sipario su sapori aromi d'autunno che torna al codma di Rosciano con la vetrina delle eccellenze della terra marchigiana buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di occhio alla notizia lo avete sentito dai nostri titoli un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Fano che sono riusciti a ricostruire un accoltelamento avvenuto tra le mura di casa a Marotta di Mondolfo i fatti risalgono alla sera del 14 novembre quando intorno alle 19 la centrale operativa ha ricevuto una chiamata dalla 118 che aveva soccorso un giovane di 24 anni per una ferita da arma da taglio all'addome insieme a lui in casa c'era anche il padre il quale aveva raccontato ai carabinieri di aver provocato la ferita al figlio in modo accidentale mentre tagliava il prosciutto l'uomo aveva indicato anche il coltello a seghetto lasciato sopra il tavolo la sua ricostruzione però non ha convinto le forze dell'ordine che non solo hanno trovato delle tracce di sangue non in cucina ma nel corridoio verso il bagno dove quindi sarebbe avvenuto l'accoltellamento ma si sono recati anche all'ospedale di Ancona dove era stato ricoverato il ragazzo inoltre è stata trovata nel lavandino la vera arma utilizzata cioè un coltello a punta con una lama di 20 centimetri utilizzato però per scopi diversi in cucina messo alle strette l'uomo che ha perso lavoro cinque anni fa e che fa spesso uso di sostanze alcoliche ha confessato di aver avuto un litigio con il figlio sfociato nell'aggressione per fortuna il taglio provocato non è profondo e il 24enne se la caverà con 15 giorni di prognosi il padre invece è stato arrestato e condotto nel carcere di Villa Fastigi questa mattina si è svolta la direttissima e il giudice ha applicato la misura dell'allontanamento dalla casa familiare in più l'uomo non potrà più avvicinarsi né al figlio né alla moglie anche lei vittima in passato di aggressioni entro un raggio di 200 metri ovunque essi si trovino un camionista di 59 anni è stato investito da un'ambulanza della croce verde di fermo lungo l'autostrada 14 è successo questa mattina in direzione nord tra porto sant'elpidio e civita nova marche un'auto con a bordo madre figlia stava viaggiando sulla corsia di sorpasso quando ha urtato lo spartitraffico coinvolgendo anche il mezzo pesante guidato dall'uomo quest'ultimo si è fermato per aiutare le donne ma mentre raggiungeva insieme a loro la corsia di emergenza attraversando la carreggiata è stato travolto dall'ambulanza sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto all'ospedale di torrette presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco sul tratto interessato si sono registrate code di oltre 4 chilometri attimi di paura questa mattina anche sulla strada provinciale cesanense dove un giovane di marotta ha perso il controllo dell'auto finendo incastrato tra un camion che transitava sulla corsia opposta e il guardrail tutti particolari nel servizio di retizia marchionni tragedia sfiorata questa mattina sulla strada provinciale cesanense che collega mondolfo a senigallia in località sterpettine è accaduto intorno alle 12 quando un trentenne di marotta a bordo di una fiat punto per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo dell'auto sul cavalcavia dell'autostrada a 14 iniziando improvvisamente a sbandare mentre procedeva in direzione monte per poi invadere la corsia opposta dalla quale proveniva un camion che trasportava dei rottami il conducente del mezzo pesante un quarantenne dell'angonetano ha fatto giusto in tempo a schivare il giovane sterzando verso il centro della carreggiata ed evitando l'impatto frontale con l'appunto che ha terminato la sua corsa incastrandorsi tra il camion e il guardrail ad avere la peggio è stato il giovane di marotta che ha riportato lesioni lievi ed è stato trasportato all'ospedale di fano non è in pericolo di vita il conducente del camion è rimasto illeso sul posto la polizia locale di mondolfo per i rilevi di legge e di vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti l'incidente ha causato disagi al traffico ed il tratto di strada è rimasto chiuso almeno per un'ora fino a quando non è stata liberata la carreggiata ieri sera invece intorno alle 22 un'auto è uscita di strada lungo la provinciale 45 a Fenile di Fano poco prima del bivio per annuvilare l'automobilista ha sfondato il guardrail a lato della carreggiata per poi finire nella scarpata ma secondo le prime informazioni pare che sia intervenuto soltanto il carro attrezzi per rimuovere il veicolo ingenti danni provocati al patrimonio pubblico i quali dovranno essere risarciti per questo come ci ha precisato il dirigente del servizio viabilità della provincia di pesero rubino mario primavera sono in corso gli accertamenti anche per risalire all'autore e ci spostiamo adesso a bell'occhi di Fano da dove ci sono arrivate queste fotografie che ritraggono un tir rimasto incastrato sotto il ponte autostradale successo intorno alle 10 e 30 appunto questa mattina nella strada che collega via luigi e inaudi alla rotatoria di via prima strada ed ora parliamo del maltempo perché i vigili del fuoco stanno intervenendo principalmente nella zona di jesi in provincia di ancona ma anche a ostra e a belvedere ostrense una trentina gli interventi fatti per prosciugamenti di acqua alberi caduti sulla sede stradale smottamenti sul posto anche il nucleo dei sommozzatori la perturbazione ha toccato anche le province di macerata fermo con una ventina di interventi ed a scolipiceno con circa 70 interventi pompieri in azione anche a Fano in via venticinquesima strada per il prosciugamento di un garage ma ci stanno arrivando segnalazioni per allagamenti nella zona di Fano sud a senigallia invece il sindaco ha disposto l'apertura del coc per monitorare la viabilità su tutto il territorio comunale principalmente sulla strada provinciale arceviese sul lungomare italia strada della marina e strada berardinelli l'invito del sindaco è quello di prestare molta attenzione in questi tratti di strada per la presenza di fango lungo la careggiata ed ora apriamo la pagina della sanità il governo sta vagliando l'ipotesi di modificare la durata della validità del green pass per i vaccinati ma anche di prorogare sia lo stato di emergenza che l'obbligo di esibire la carta verde un lascia a passare sul quale si discute molto ma anche sulla sua legittimità noi oggi abbiamo parlato di questo con l'avvocato di Verona l'inizio della quarta ondata di covid 19 sta portando alcuni paesi europei a introdurre nuove misure la situazione dei contagi in italia ancora sotto controllo ma visto l'aumento il governo ha già messo in campo ulteriori norme e ne sta vagliando delle altre la stretta è partita dall'ordinanza emessa dal ministero dei trasporti in accordo con il ministero della salute in particolare nelle grandi stazioni dei treni è preferibile che il controllo della certificazione verde sia svolto a terra prima della salita sul mezzo inoltre il provvedimento prevede che qualora i passeggeri presentino sintomi riconducibili al covid la polizia ferroviaria e le autorità sanitarie possono decidere di fermare il treno per procedere ad un intervento e allo studio poi un giro di vite per il periodo invernale sul green pass oltre ad una proroga per il 2022 insieme allo stato di emergenza si pensa ad una riduzione dei mesi di validità post vaccino che potrebbero passare da 12 a 9 invece con i tamponi la validità della carta verde potrebbe scendere dalle 72 alle 48 ore con il test molecolare e dalle 48 alle 24 con quello antigenico da tempo si discute sulla legittimità del lascia passare richiesto anche per svolgere l'attività lavorativa e a far chiarezza oggi è l'avvocato di verona thomas del monte avvocato che cos'è il green pass il green pass o lascia passare è uno strumento concepito dal regolamento 953 del 2021 della commissione europea in particolare considerando numero 36 tale per cui il cittadino di uno stato membro ha possibilità di viaggiare quindi transitare in alto stato membro dimostrando nel momento del permanente della pandemia il proprio stato di benessere fisico e perché è così tanto contestato viene contestato perché l'italia è uno di quei paesi non solo che ha utilizzato questo strumento ripeto meramente formale per discriminare i lavoratori tra coloro che sono vaccinati o meno penso ad esempio alla possibilità di accedere o meno al posto di lavoro quindi è stato individuato questo strumento giuridico per garantire la sicurezza sanitaria della popolazione ma quanto può durare non può durare all'infinito proprio perché questo stato di emergenza sanitaria tocca sul vivo i principi fondamentali e i diritti fondamentali della persona sanciti alla costituzione in particolare il decreto del 31 gennaio 2020 è stato emesso sulla base del codice della protezione civile il cui articolo 1 prevede che la durata massima possa essere di sei mesi con eventuale proroga ai sensi dell'articolo 24 di ulteriori 12 mesi quindi se in totale può durare 18 mesi noi saremmo già abbondantemente oltre questo limite temporale tale per cui il dibattito tra dottrina e giurisprudenza inizia a farsi interessante proprio perché vi è una importante parte della dottrina che ritiene che questo modo di concepire il Green Pass non sia più conforme ai principi costituzionali. Però si parla addirittura di una possibile proroga perché non se ne parla così tanto perché nessuno fa niente. Vi è la necessità di tutelare la sanità pubblica a scapito anche di diritti fondamentali. A livello internazionale l'orientamento della Corte dell'Ossemburgo è tale per cui fermo restando il divieto di discriminare tra chi ha il Green Pass e chi non ce l'ha, queste applicazioni però sono liberamente attuabili dagli Stati membri e quindi di conseguenza rinvia al giudice dello Stato l'applicazione o meno della normativa. Da questo punto di vista i profili di costituzionalità sono certamente presenti ed auspico dibattiti non tanto e non solo in campo medico scientifico ma anche in campo giuridico affinché si faccia luce sulla necessità di ripristinare un equilibrio tra tutele giuridiche verso il cittadino tale per cui la tutela sanitaria non arrivi a inficiare la libertà del cittadino di esprimere le proprie opinioni in materia sanitaria secondo la propria sensibilità come tutelato dall'ultima parte dell'articolo 32 della Costituzione. L'intervista integrale la potrete trovare sia sul nostro sito occhioallanotizia.it che sui nostri canali social. A Forza Italia di Fano è giunta voce da più parti che il punto vaccinale del Codma verrà spostato in viale Europa a Marotta per un disimpegno causa mancato accordo sui compensi della protezione civile nel garantire il regolare afflusso delle persone al punto stesso. Per questo Forza Italia chiede dei chiarimenti ai vertici dell'Asur e al sindaco Massimo Seri. Dobbiamo precisarvi però che il servizio di volontariato è stato svolto fino al primo settembre non solo dal CB Club Mattei ma anche da una settantina di associazioni e gruppi comunali della provincia di Pesero Rubino volontari che non hanno mai ricevuto nemmeno un rimborso spese come quello del carburante per recarsi al Codma. Gli stessi volontari per mesi hanno garantito aiuto alla popolazione gestendo la fila e gli ingressi permettendo alle persone di attendere in auto e di entrare a scaglioni. Oggi invece anche a causa del maltempo non essendoci più questo servizio si vengono a creare alcuni disagi perché le persone entrano direttamente nella struttura dove non c'è un ampio spazio dedicato all'attesa. Da qui l'ipotesi di cercare un edificio più idoneo nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro per capire il da farsi. Ed ora l'aggiornamento della covid nelle marche nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso legato al coronavirus. Si tratta di una donna di 85 anni residente ad Ancona. Tra le nuove diagnosi i positivi riscontrati sono 226. In testa per numero di contagi c'è la provincia di Ancona con 71 nuovi casi mentre a Pesaro e Urbino se ne contano 41. Cala leggermente il numero dei ricoveri negli ospedali della regione che sono 91 in totale. Aumenta il numero di pazienti sia in terapia intensiva che in semi intensiva. E questa mattina l'osservatorio epidemiologico della regione ha reso noti i dati relativi al trend delle vaccinazioni nella popolazione scolastica marchigiana. Quasi l'80% dei giovani tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto la prima dose, più del 70% anche la seconda. Inoltre sono state somministrate le prime terze dosi per i 16-19 anni. Rispetto al monitoraggio del 9 novembre scorso però sono raddoppiate le classi in quarantena che sono passate da 40 a 95 di cui 38 nelle scuole superiori. Sta bene l'assessore regionale Guido Castelli che ieri aveva annunciato la sua positività il covid-19 come da protocollo e scattato l'isolamento per tutta la giunta che continua a lavorare da casa. E intanto proprio da casa sia il governatore Francesco Acquaroli che l'assessore alla sanità Filippo Salta Martini hanno pubblicato un post sulle pagine facebook per smentire la notizia del cambio di colore della nostra regione. Nessuno di noi può sapere con certezza quale sarà l'andamento della pandemia nelle prossime settimane ha scritto il presidente ma tuttavia in questo momento il passaggio in zona gialla è da escludere in quanto i ricoveri in area medica sono abbondantemente sotto il limite consentito. Per questo ha proseguito Acquaroli raccomando a tutti di prestare la massima attenzione e concentrarci nel rispetto delle regole che tutti conosciamo. Questi che sembrano ormai accorgimenti superati sono invece sempre molto importanti per rallentare la corsa della curva pandemica e insieme alla vaccinazione e al tracciamento ha concluso il governatore sono strumenti indispensabili per tenere sotto controllo il contagio e i ricoveri ospedalieri. Dovrebbe essere un fiore all'occhiello per la città di Pesaro invece galleria Roma che si trova a due passi dal teatro Rossini regna nel degrado da anni. A lanciare l'allarme sono gli stessi commercianti che chiedono al comune di intervenire con urgenza per procedere almeno sulla pavimentazione ma non è tutto. Allora sentite che cosa hanno raccontato appunto i negozianti ad Angelica Panzieri. Siamo in galleria Roma pieno centro storico di Pesaro qui dove persistono diversi problemi da anni. Ora sono i commercianti a lanciare un appello al comune. Barboni che bivaccano a terra tutte le ore del giorno, biciclette parcheggiate abusivamente al suo interno, cartacce e bottiglie vuote lasciate ovunque e la fotografia di galleria Roma che dovrebbe essere un fiore all'occhiello per questa città dicono i commercianti ormai stanchi e invece qui regna il degrado più totale. Ad un mese e mezzo dal Natale non è di certo la miglior cartolina per attrarre cittadini e turisti, da qui di nuovo la richiesta al comune che dovrebbe intervenire per riqualificare almeno la pavimentazione, un intervento che gli stessi commercianti attendono da anni. I problemi sono rimasti sempre quelli, anzi si sono aggiunti perché ci sono anche gli ubriaconi che si mettono lì sotto e fanno bisboccia, fanno di tutto ed è la gente anche un po' paura di passare, in più tutte le biciclette, tutti i motorini e il pavimento è rimasto quello che era mentre il comune aveva detto che avrebbero fatto questi lavori perché il tetto è stato fatto ma dai condomini, quindi il comune dovrebbe pensare anche alla pulizia di questa galleria, non è decoroso per niente anche perché la gente ha bisogno di vedere delle cose belle. Mi era stato detto praticamente che da febbraio 2021 avrebbero pensato a incominciare i lavori della pavimentazione della galleria, questo non è stato, visto che ha due passi dal teatro e quindi oltretutto poi basta di tenere motorini, biciclette. Io vengo a lavorare con la bicicletta ma mica la metto qua sotto? Non ho capito perché devono tutti fare una cosa di questo tipo. Ci sono i soliti ubriaconi, i soliti drogati, i soliti casini, fanno parcheggiare le biciclette, fanno parcheggiare le motociclette, fra poco ci mettono anche le macchine e quindi la galleria Roma sarà sempre, promettono dovrebbe essere eseguito, probabilmente avranno investito quello che è in altre cose e adesso aspetteranno di riavere i soldi per poter rifinanziare questo lavoro che secondo me è indispensabile per avere una galleria Roma vivibile, messa bene insomma. Ancora cronaca, gli agenti del commissariato di Senigallia hanno arrestato un cinquantenne che nascondeva in un mobile di casa diversi involucri contenenti 200 grammi di hashish. La polizia ha trovato anche il materiale per il confezionamento delle dosi e diverse migliaia di euro. Anche il denaro, ritenuto prevento di spaccio, è stato sequestrato mentre l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari dopo la convalida dell'arresto avvenuta ieri. Notevoli passi in avanti per il casello di Fano Nord. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli che questa mattina ha partecipato al tavolo di lavoro con Società Autostrade. Abbiamo valutato, ha riferito l'assessore, una nuova soluzione meno impattante sull'ambiente circostante. Siamo vicini al superamento di un impasse che si protrae da quasi dieci anni. La nuova idea progettuale pone lo svincolo in una posizione meno visibile dalle colline di Montegiove e prevede il riutilizzo di opere già esistenti come il cavalcavia e quindi con una minore occupazione di suolo. Le uniche nuove realizzazioni saranno il casello vero e proprio e una strada adiacente all'asse autostradale per circa 24.800 metri quadri, quindi circa 70.000 metri quadrati in meno rispetto al progetto del 2012. Ora però si attende il parere di tutti gli enti di competenza. Ora un evento. Dopo uno stop a causa della pandemia, da domenica torna Sapori e Aromi d'autunno al Codma di Rociano a Fano. Questa mattina durante la conferenza stampa è stata presentata la 33esima edizione dell'evento e c'era per noi Filippo Pucci. Il Codma di Rociano è pronto ad ospitare i profumi, i gusti e i prodotti tipici locali in occasione della 33esima edizione di Sapori e Aromi d'autunno, il salotto del gusto. Dopo il fermo della scorsa edizione, domenica 21 e domenica 28 novembre, le eccellenze marchigiane vengono messe in bella mostra al pubblico. Ricco il programma che spazia dalle premiazioni Marche Nostre, il Gran Gala dell'Olio Marchigiano, il concorso regionale L'Oro delle Marche di Olea, la camminata del cuore e quest'anno anche una pedalata. Taglio del nastro, domenica 21 alle ore 10. Sapori e Aromi d'autunno da 33 anni che prevede innanzitutto la partecipazione dei produttori delle Marche, produttori e commercianti selezionati da noi dei prodotti tipici delle Marche. Quest'anno avremo oltretutto tra i produttori, abbiamo avuto una richiesta da parte di due associazioni del territorio di Foggia, con le quali noi siamo gemellati come Olea e Viandante di Sapori e i nostri produttori avranno occasione, quando loro organizzeranno le loro iniziative, di essere ospiti da loro. Quindi abbiamo un pochino, per questioni Covid, abbiamo stravolto un pochino il percorso della manifestazione. Comunque i visitatori troveranno sempre quello che hanno trovato gli anni passati. Il programma completo, visibile sia sulla pagina Facebook che al sito saporiearomi.info, vede ancora una volta la conferma dell'appuntamento dedicato all'olio della solidarietà, dove verranno donati alla mensa Opera Padre Pio di Fano delle bottiglie d'olio, ma non solo perché gli organizzatori hanno ideato una nuova iniziativa. Potete rivolgersi a Olea o scaricare la domanda dal sito e portare il campione a Sapori Aromi d'autunno nelle due domeniche. La premiazione di questi concorsi avverrà il 18 di dicembre. Abbiamo dovuto far slittare la manifestazione di premiazione proprio perché quest'anno la campagna Olearia è in ritardo e sarà un'opportunità di incontrare i produttori sia professionali che amatoriali. E tutte le altre iniziative, compreso la fine della manifestazione, che sarà il Baccala Fest, che dal 20 dicembre al 20 marzo prevede il coinvolgimento di ristoranti nel territorio dell'entroterra panese, soprattutto con le gare gastronomiche Covid permettendo. L'evento, ad ingresso libero ma con Green Pass alla mano, è reso possibile grazie al contributo della regione Marche, della provincia e della BCC di Fano, oltre al supporto del comune di Fano. Sapori Aromi d'autunno raccoglie tutti i produttori che hanno a che fare col gusto in un'area molto sicura, ormai è diventata un'area fieristica, quella del Codma, e quindi rappresenta pieno questa nostra tipicità. Tra l'altro il gusto, che è un volano importante per noi e per la nostra enogastronomia, e può essere quella tematica che spinge veramente questi mesi, che rischiano di essere un po' più scarichi rispetto alle attività estive, le attività natalizie, possono anche dettare delle linee guida per portare turismo nei mesi di ottobre-novembre. Tra poco trasmetteremo uno speciale dal titolo L'accompagnamento della coppia infertile. E invece l'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti. Grazie per aver scelto il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie.